Grande attività intorno e sopra Marte, secondo robot della NASA appena arrivato in un cratere, i crateri sono considerati luoghi ideali per le analisi perché permettono di studiare il sottosuolo marziano senza scavare. La sonda europea Mars Express si prepara a darci nuovi risultati dopo quello clamoroso di venerdì, la scoperta di ghiaccio d'acqua. Ma qual è il senso di tutte queste missioni? Terra chiama a Marte e a tutte le macchine un solo ordine, cercare informazioni ma soprattutto tracce di vita. Dal turbinio di orbiters, robottini cingolati e a trazione integrale con i loro occhi e nasi high tech, da obiettivi analizzatori multifrequenza arrivano raffiche di dati. Il pianeta rosso, Marte, parla al pianeta azzurro, la Terra, di presenza di acqua e si rivela con continue immagini a grande definizione di canyons, canali erosi, deserti. Quali le altre macchine all'opera? Dei due rover americani, Spirit il primo, ora è in cura, tramortito da un guasto al computer. Lui e Opportunity sono dotati di spettrometri, fotocamere, microscopi e analizzatori di sabbie e sassi raccolti da paletti lungo le passeggiate. L'ultimo robot ammartato ha come compito anche quello di campionare il maggior numero di reperti di matite, ossido di ferro sempre associabile alla presenza d'acqua, la cui presenza a sua volta apre alla possibilità di vita o di tracce di vita passata che coronerebbero ogni sforzo europeo come statunitense. Mars Express che intanto orbita lassù porta a bordo anche uno spettrometro con fotocamera ad alta definizione e porta anche PFS, altro spettrometro italiano questo, con accuratezza senza precedenti. Suo responsabile è quel Vittorio Formisano che tre giorni fa ha dato l'annuncio dell'acqua. Questo strumento ha rilevato anche sensibili differenze di distribuzione di ossido di carbonio sui due emisferi marziani. Ma è la fotocamera ad altissima risoluzione che ha fornito le belle immagini che hanno stupito i non scienziati in questi giorni. A bordo c'è anche in azione Marsis, altra macchina italiana, radar in grado di scandagliare il suolo fino a tre chilometri di profondità. E infine, nella pancia di Mars Express, altro prezioso strumento, l'analizzatore atomico Aspera che indaga sul ruolo del vento solare sull'atmosfera marziana. Per tanti di noi la fisica è stata una bestia. e quindi